L'approccio è per noi. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù, che portò l'approccio è per noi. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù, che portò l'approccio è per noi. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù, che portò l'approccio è per noi. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù, che portò l'approccio è per noi. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù,